Il notaresco comincia il 2022 nel migliore dei modi, 4-0 contro l'Aurora Alto Casertano per dimenticare la sconfitta di Recanati. Gara che nelle prime battute è molto equilibrata, ma con il passare dei minuti i Rosso Blu mettono a terra i campani. La gara si accende già nei primi minuti, infatti al sesto i padroni di casa guadagnano un calcio di rigore grazie a Pesce, che si inserisce alle spalle di difenza di ospiti, Monteleone è nettamente in ritardo e stende il numero 8 in aria. Un minuto dopo Valenti si presenta sul dischetto e con un tiro centrale segna la rete del vantaggio rosso-blu. L'Aurora Alto Casertano non ci sta e al dodicesimo risponde al gol dei padroni di casa. Rivamar aggancia un pallone al limite dell'area, si libera un difensore avversario, conclude ma la palla sorvola la traversa. Al ventunesimo Maio si divora il doppio vantaggio, Valenti lo serva alla perfezione ma il 9 del notaresco colpisce in pieno Kuzmanovic. Nella ripresa il notaresco mette in archivio i tre punti, prima sfiora il secondo gol con Esposito che conclude al limite dell'area. L'estremo difensore dell'Aurora Alto Casertano blocca in due tempi e mantiene a galle i suoi, ma al 64esimo arriva il tanto cercato 2-0. Maio viene trovato al centro dell'area da Esposito, conclusione deviata da Kuzmanovic sul tapin e pronto pesce che deve solo spingere il pallone in rete. Alla mezz'ora la squadra di mister Epifani trova anche la rete del 3-0, Valenti scappa sulla destra a conclusione piazzata che colpisce il palo. Solo ribattuta arriva il neo entrato dorato che segna la sua prima rete stagionale. Cinque minuti più tardi il notaresco cale il poker sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Scimia entrato da pochi secondi in campo effettua una conclusione meravigliosa che si insacca sull'incrocio dei pali opposto. Non succede più nulla, triplice fischio e il notaresco torna a vincere dopo la caduta di Recanati, mentre l'Aurora Alto Casertano non riesce ancora a trovare la giusta strada. Veniamo da un mese di inattività, abbiamo giocato un mese, ma anche giovedì abbiamo fatto una Michelo, eravamo un pochettino arrugginiti, poi abbiamo avuto i casi, piano piano stiamo riprendendo i giocatori uno alla volta, però abbiamo anche caricato per fare un grande giro di ritorno, quindi oggi eravamo un mix tra la ruggine che non si giocava da un mese e le vacanze di Natale dove abbiamo lavorato tanto perché nei mesi precedenti alla fine di prima di Natale non abbiamo potuto più lavorare e quindi abbiamo dovuto mettere benzina. Oggi abbiamo fatto piano piano, siamo cresciuti durante la partita, sono contento perché ripartire con una vittoria è sempre importante. Diciamo che la matematica non ci ha condannato sicuramente, io personalmente non mi sento condannato e mi sento che si può lottare fino alla fine, abbiamo ancora 17 partite avanti in questo momento.